Ultimamente trovo il mondo della formazione per ristoratori brutto, sporco, in decadenza. Lo definisco rotto e a me, che sono vecchio dentro, non piace buttare i giocattoli rotti. Io voglio aggiustarli. Così cercherò di aggiustare anche il mondo della formazione per ristoratori. Ci sono falsi miti, dicerie, banalità, superficialità o semplici bugie che girano nel mondo della formazione per ristoratori. In questa terza stagione di Radio Ristorazione le affronterò una per una, raccontando quella che credo sia la verità. Questo podcast non servirà soltanto per parlarne. Alle parole, infatti, seguiranno i fatti. E li racconterò in un webinar gratuito che terrò in diretta il 16 aprile 2024 alle ore 15 e 30, dove mostrerò la grande novità del 2024 di Ristoratore Top, ma anche la nostra soluzione per chi vuole formarsi e farlo al meglio. Link per iscriversi al webinar in bio di ogni nostro social, oppure andate sul nostro sito www.ristoratoretop.com e vi uscirà un pop-up. Cliccate, iscrivetevi al webinar e non ve ne pentirete. Ricevo ciclicamente, da 11 anni a questa parte, la domanda Lorenzo, ma tu ce l'hai un ristorante? Che suona più o meno così. Lorenzo, ma tu che fai tanto il fenomeno, che fai il formatore per ristoratori, dai consigli ai ristoratori, ma ce l'hai un ristorante o parli per dare aria alla bocca? E me l'immagino sempre dall'altra parte dello schermo come dire Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, l'ho letto sul libro di aforismi e si sa, quelli non sbagliano, esattamente come i luoghi comuni e gli stereotipi. Scacco matto Lorenzo, ti ho messo nel sacco, il re è nudo e tu sei un impostore. E io rispondo così, di solito. Io no, non ce l'ho, un ristorante. Il tuo idraulico invece? Mi spiego meglio. Quando ti si rompe un tubo di un lavandino in cucina, ti rivolgi solo ad idraulici che hanno anche un ristorante? Perché loro sì che capiscono le tue problematiche, povera stella, i problemi con il personale, con i fornitori, con lo Stato, che sono esattamente i problemi che chiunque faccia l'imprenditore in Italia ha, te e me inclusi, ma nel mondo della formazione per ristoratori sembra che siamo in un settore particolare, che solo lui vive i problemi, le sfide e le opportunità del nuovo millennio. Quindi, dicevamo, ti rivolgi solo ad idraulici che hanno anche un ristorante se ti si rompe un tubo del lavandino? O ti rivolgi a un idraulico che è in grado di riparartelo, quel lavandino? Ancora, ti si rompe il frigo? Di sabato sera ovviamente, perché sembrano progettati per rompersi esattamente di sabato sera e non magari il lunedì mattina. No, di sabato sera. Dicevo, chiami un meccanico che ha anche un ristorante o chiami l'azienda che ti eroga assistenza per il frigo? Ancora, ti è arrivata un'avvertenza sindacale da parte di un indipendente? Ti rivolgi solo ad avvocati che sono contestualmente proprietari di ristoranti? O ti rivolgi ad avvocati specializzati nelle controversie con i dipendenti? Prendiamo il tuo software gestionale di cassa. Immagino che tu l'abbia comprato da un'azienda di software che ha anche decine e decine di locali su e giù per l'Italia, uguali al tuo magari, altrimenti non si spiega come potrebbero fornirti un software che funziona, visto che si sa, è noto e palese e risaputo che i software che funzionano li fanno solo ed esclusivamente i ristoratori e non di certo le software house. E soprattutto, quando c'è un problema legato al software, certamente chiami il ristoratore tuo amico che ne sa a pacchi di bug di software gestionali. E ancora e ancora, quando hai problemi legati al marketing, al controllo di gestione, al personale, ti rivolgi solo a persone che sanno fare marketing e che hanno un ristorante? Ti rivolgi solo a persone che fanno controllo di gestione e hanno un ristorante? Ti rivolgi solo a colleghi che hanno un ristorante e del personale da gestire? Oppure ti rivolgi ai professionisti che sanno fare, rispettivamente, marketing per la ristorazione, controllo di gestione per la ristorazione, gestione delle risorse umane per la ristorazione? Quello che voglio arrivare a dire è che quando avete un problema specifico, vi dovreste rivolgere a degli specialisti di risoluzione di quel problema, non a dei vostri colleghi. Io dico spesso che se mi metteste in cucina, a spadellare o in sala ad accogliere clienti, io vi faccio fallire il locale nel giro di due settimane. Parlo di me personalmente. Se ci chiamate come ristoratore top, no, visto che nel nostro team abbiamo tante persone che hanno decine di anni di esperienza, decine di anni di professionalità sulle spalle, come gestori, come dipendenti, come esperti di marketing che hanno lavorato in tutti i ruoli di un ristorante. Ma parlo di me personalmente, Lorenzo Ferrari. Se me mi mettete in cucina o in sala, lo ripeto, vi faccio fallire domattina, perché io non so accogliere un cliente, non so lavorare in una cucina professionale, non so fare il conto in cassa ai clienti, non so servire un piatto. Di vino ne so un sacco, ma ho posizioni troppo poco democratiche per essere messa a contatto con la clientela. E poi, credetemi, vi farei sparire tutti i sellos che avete in cantina e incolperei il lavapiatti. Insomma, io tecnicamente non so fare il lavoro di un ristoratore, ma vi posso garantire che se mi mettete al marketing e seguite quel che dico, è probabile che insieme riusciremo a fare la fortuna del vostro locale. Posso permettermi di dirlo perché l'abbiamo già fatto centinaia di volte con le nostre consulenze, con i nostri scorsi di formazione, con i nostri servizi. Attenzione, non è sicuro che ci riusciamo, perché non siamo infallibili, non siamo né Harry Potter né il mago Merlino. Io dico soltanto che è probabile che applicando il marketing, tanto buonsenso, pazientando il tempo che serva affinché le strategie diano i suoi frutti, è probabile che insieme faremo grandi cose. Io non so fare il ristoratore per due ragioni. La prima è che non mi piace quel mestiere. E la seconda è che non è il mio mestiere, non è la mia professionalità, quello del ristoratore. Io so aiutare i ristoratori ad aumentare a dismisurare i loro risultati grazie al sistema ristoratore top, perché mi piace, perché me lo sono inventato e perché il mio mestiere da 11 anni è questa parte. Io e le 32 persone, saranno 37 a fine mese e state sereni che arriveremo a superare le 40 entro la fine dell'anno, dicevo io e queste persone che lavoriamo in ristoratore top e platform conosciamo a mena dito il settore della ristorazione, perché lo calchiamo, lo viviamo, lo respiriamo in maniera ossessiva da 11 anni, perché ogni giorno della nostra vita lo approfondiamo, lo studiamo, lo amiamo e ce lo limoniamo con la lingua, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue vette, in tutti i suoi abissi. Noi amiamo quel che facciamo. Una delle obiezioni più frequenti a questo ragionamento è, va bene Lorenzo, tutto quello che ti pare, ma io voglio rivolgermi solo a ristoratori, perché sono solo i ristoratori a conoscere bene le mie problematiche, perché loro le hanno vissute sulla propria pelle. Ragazze e ragazzi, io vi voglio svelare un segreto. Uno che conosce bene le vostre problematiche è esattamente la definizione di esperto del settore. Un esperto non è altro che un profondo conoscitore delle problematiche che vivete ogni giorno, che le capisce, che le ha affrontate più volte, che le ha risolte, che è passato con voi attraverso quelle problematiche e ne è uscito vincitore. Quando avete un problema vi dovete rivolgere ad esperti del settore, non a dei ristoratori. Certo, esistono ristoratori che sono anche esperti del settore, ma credetevi quando vi dico che non è sempre così. La maggior parte dei ristoratori, mi spiace per loro, non sono esperti del settore ristorazione, perché hanno avuto un'esperienza con un ristorante, in una località, con una storia, una caratteristica, una clientela. Non centinaia di ristoranti in centinaia di località, con centinaia di storie differenti e centinaia di clientele differenti. Quello è ciò che fa la differenza tra un esperto e un cialtrone, tra un professionista e un truffatore, tra un drago e una lucertolina. La quantità, la qualità e la frequenza delle casistiche che ha affrontato. E la diversità di queste casistiche. E tu, che stai ascoltando questo podcast, voi, che state ascoltando questo podcast, anche se siete a capo di un ristorante di successo, non è scritto da nessuna parte che riuscirete a replicare quel successo. Tra l'altro ci dedicherò una puntata a parte di questo podcast. Signore, signori, il fatto che voi abbiate un locale di successo dimostra quanto voi siate bravi a fare i ristoratori con quel ristorante, attenzione, non con tutti gli altri. Perché ogni ristorante è a sé, anche il vostro, il suo e quello di quell'altro. Certo siete stati bravissimi ad avere un ristorante di successo, certo avete un'esperienza pazzesca con quel ristorante in quella situazione, ma non è detto che quell'esperienza lì sia replicabile. Siamo d'accordo che gestire un ristorante stellato è diverso da gestire un chiosco di piadine di fronte allo stadio. Così come credo che saremo d'accordo nel dire che avere una trattoria in centro a Roma è piuttosto diverso da avere un'osteria in un paesino di montagna. Ed è altrettanto vero, saremo altrettanto d'accordo nel dire che avere un cocktail bar a Cernusco su un Naviglio sia diverso da averne uno in centro a New York. E non voglio neanche aprire il discorso del conflitto di interessi. Perché è possibile, non probabile, ma possibile che chi fa il ristoratore potrebbe, e dico potrebbe, non voler svelare tutti i suoi trucchi e tutti i suoi segreti, proprio per non crearsi concorrenza agguerrite intorno. Ma questa è un'altra storia e sinceramente non ho voglia di aprire quella porta. Ma va bene, arriviamo alle conclusioni. Dietro l'obiezione, ma tu Lorenzo ce l'hai un ristorante? Si nasconde un'altra domanda, peraltro molto sensata e che trovo sacrosanta, che è questa. Lorenzo, io perché, che faccio un ristoratore e ho dei problemi da risolvere, dovrei fidarmi di te e di ristoratore top per ricevere consigli di marketing per il mio ristorante? Ripeto, questa è una domanda bellissima, giusta, perfetta, sacrosanta. Perché dovresti fidarti di ristoratore top che di mestiere non fanno un ristoratore, ma che sono degli esperti di ristorazione? Certo, la risposta è insita nella domanda e molti di voi non se la sono nemmeno mai posta, proprio perché sappiamo fare quel che facciamo e insegniamo quel che sappiamo fare e molti di voi si sono fidati, a mio parere giustamente, di noi. Ma io non voglio soltanto rispondere a quella domanda che, ripeto, trovo sacrosanta. Voglio alzare la posta. Voglio, infatti, rispondere alla domanda che contiene quella che vi ho appena fatto. E la domanda è questa. Come si valuta un fornitore, qualsiasi esso sia? Perché io, così come tanti altri professionisti che vi possono seguire il marketing, vi possono dare dei consigli professionali sul vostro business, non siamo altro che fornitori. Tutto qua. E come fate a valutare se questi fornitori, tra cui il ristoratore top, siano adatti per darvi delle risposte, siano adatti per darvi delle soluzioni? Secondo la mia esperienza, dovreste farvi queste quattro domande. La prima domanda è questa. In quale area specifica del business ha dimostrato quel fornitore di saperne, con i fatti, più di voi? Nel caso di un idraulico è palese che questo idraulico sappia aggiustare i tubi del lavandino meglio di voi. Non c'è nient'altro da aggiungere. Nel caso di Ristoratore Top, noi ci siamo specializzati, da 11 anni a questa parte, nel marketing per la ristorazione. Io sono fermamente convinto che noi in Italia siamo i più bravi su questo. Chiaramente prendete la mia affermazione con le pinze, perché io sono in conflitto di interessi nel fare questa affermazione. Tuttavia ci credo, e quando credo in qualcosa io la devo dire e devo dirla a gran voce. Ma sapete perché ci credo? Perché io non credo che esistano altre realtà in Italia che abbiano studiato la disciplina come l'abbiamo studiata noi. Perché non credo che esistano altre realtà in Italia che abbiano trattato così tante casistiche, come abbiamo trattato noi, con il nostro impegno, con la nostra dedizione, con la nostra ossessione, come abbiamo fatto noi. E io perché so quanto know-how, quanti sistemi, quante procedure, quante casistiche abbiamo nel nostro archivio. Sul marketing, secondo me, siamo i migliori. Sul resto, no. Non ci chiedete come gestire il vostro locale, non ci chiedete come risparmiare sulle tasse o come fare una pianificazione e un business plan, non ci chiedete come assumere una persona. Possiamo al massimo, se ci fate queste domande, condividere l'esperienza dei nostri clienti e quindi dei vostri colleghi, ma non possiamo, al momento almeno, erogare consulenza a riguardo. Chiedeteci piuttosto come guadagnare di più, con meno sforzo. Su quello siamo bravissimi e lo abbiamo dimostrato. La seconda domanda è questa. Da quanto tempo quel fornitore fa questo mestiere? Perché un conto è che sia appena arrivato sul mercato, un altro è che sia sul mercato da anni. Puoi truffare una persona, la puoi truffare per 5 minuti, la puoi truffare per qualche tempo, ma non puoi truffare tutti per tutto questo tempo. Se una persona ha 30 anni di esperienza, è probabile che quell'esperienza se la sia spesa bene, è probabile che abbia tanti casi di successo, e è probabile che sia veramente un professionista in quello che fa. Se una persona è appena sbarcata sul mercato, può anche essere il più bravo di tutti, ma deve ancora dimostrarlo. E per dimostrarlo serve tempo. Noi di Ristoratore Top siamo sul mercato dal 2013. Puoi verificarlo e potete verificarlo tranquillamente e facilmente con una ricerca online. E questi 11 anni non li abbiamo vissuti campando di rendita, credeteci, ma ci siamo sempre messi in gioco e in discussione. Io dico sempre che per i primi 5 anni di vita noi non ci siamo dedicati a crescere, non ci siamo dedicati ad aumentare i fatturati e le marginalità, ma avevamo un unico scopo ed era quello di diventare i più bravi. Mentre gli altri dormivano o si riposavano, noi studiavamo e ci mettevamo in gioco. Mentre gli altri crescevano o si dedicavano a crescere, noi ci preparavamo a crescere. Mentre gli altri si godevano i frutti del loro lavoro, noi stavamo seminando. Terza domanda. Quanti e quali brand di successo ha nel suo portfoglio questo fornitore? Questo tizio o questa tizia ha lavorato con Pippo e Topolino o ha lavorato con brand riconosciuti e riconoscibili affini al vostro? Noi abbiamo centinaia di casistiche trattate, dall'indipendente alle catene. Dal piccolo al grande, dal ristoratore all'imprenditore, dall'osteria al ristorante, dal bar alla pizzeria, dal pub al cocktail bar. Ne abbiamo viste di cotte e di crude nel campo della ristorazione ed è per questo che ci riteniamo essere degli esperti. Se vuoi vedere queste casistiche vai sul nostro sito e guarda, c'è scritto clienti, ci puoi cliccare in cima e ci sono tutte le informazioni di cui hai bisogno. Non abbiamo segreti e se voi sapete più ovviamente chiedicelo, siamo assolutamente a disposizione. Quarta domanda, che numeri, che dati, che fatti, che casi studio di attività simili alle vostre ha questo fornitore per le cose che dice di saper fare? Non guardate i suoi risultati. I suoi risultati, quanto fattura, quanto margina, quanto guadagna con la sua azienda, quelli dimostrano quanto sia bravo nel fare il suo di mestiere, non di quanto può effettivamente aiutarvi. Quanto fatturano e quanto guadagnano i vostri fornitori o quanto fattura e quanto guadagna il ristoratore top e platform, anche se ce la caviamo abbastanza bene, non è rilevante per dimostrare quanto siamo bravi a fare il nostro mestiere. Quello che fa la differenza è come si fanno quei numeri, scendendo a quali compromessi, perché ci sono sempre dei compromessi ai quali sottostare. Voi dovreste guardare che clienti ha seguito, quali risultati gli ha permesso di raggiungere quel fornitore, che cos'è successo con quei clienti, che casi studio ha accumulato, che cosa dicono di quell'azienda clienti ed ex clienti. Queste sono le cose che contano per valutare un fornitore. Non se ha un ristorante oppure no. Poi, volete affidarvi a persone che sanno fare marketing e che hanno anche un ristorante? Va benissimo, è giusto, ma solo ed esclusivamente se rispettano gli standard di qui sopra, solo ed esclusivamente se hanno delle risposte giuste, scritte, nero su bianco, alle domande che vi ho appena fatto di qui sopra, a quei quattro quesiti a cui vi ho chiesto di dare risposta. E nel caso non vogliate seguire queste quattro domande, accomodatevi, fatevi tranquillamente seguire dal collega che fa anche marketing per la ristorazione, però, 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 è giusto che sappiate che quella persona ha esperienza con quel ristorante, con quella storia, in quel contesto, in quella città, con le loro pubbliche relazioni, conoscenze, agganci ed esperienze. Non con tutti gli altri. Quindi no, io non ce l'ho un ristorante, il ristoratore top non ha un ristorante e neanche il tuo idraulico. E sapete cosa? Va bene così. Perché ogni professionista deve specializzarsi nella sua disciplina fino a diventare il più bravo in quel che fa e deve avere il tempo, la voglia, la forza e l'ossessione di farlo. Se noi facessimo anche i ristoratori, non saremmo completamente assortiti nel fare ciò che facciamo, il ristoratore top, e nel farlo al top. Guardate, noi siamo molto giapponesi a riguardo. Facciamo quel che sappiamo fare, insegniamo quel che abbiamo dimostrato di saper fare e continueremo a farlo. Prima di salutarvi, vi ricordo due cose. La prima è che abbiamo organizzato un webinar gratuito dove parleremo della nostra personalissima soluzione per aggiustare il mondo della formazione per ristoratori. Lo terrò in diretta il 16 aprile 2024 alle ore 15.30. Per iscrivervi, cercate nei link di ogni nostro social oppure andate sul nostro sito web www.ristoratoretop.com vi comparirà un pop-up per portarvi al link di iscrizione al webinar. La seconda è che se i contenuti che state ascoltando vi piacciono, ricordatevi di recensire il podcast mettendo 5 estelline su Spotify, un pollicione in alto e un commento su YouTube. Chi non lo fa, gode solo la metà. Noi ci sentiamo al prossimo falso mito, come sempre grazie per l'ascolto e dai cazzo! Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione